L'Evangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli In verità, in verità io vi dico Se chiedete qualche cosa al Padre nel mio nome Egli ve la darà Finora non avete chiesto nulla nel mio nome Chiedete e otterrete Perché la vostra gioia sia piena Queste cose ve le ho dette in modo velato Ma ora, ma viene l'ora In cui non vi parlerò più in modo velato E apertamente vi parlerò del Padre In quel giorno chiederete nel mio nome E non vi dico che pregherò il Padre per voi Il Padre stesso vi ama Perché voi avete amato me E avete creduto che io sono uscito da Dio Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo Ora lascio di nuovo il mondo E vado al Padre Padre carissimi Siamo alla vigilia Della festa dell'ascensione Il penultimo atto Del mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo E questo Vangelo è un'ammunizione Che ci introduce in questo mistero Grandissimo, importantissimo Fondamentale per la nostra vita Dice San Paolo Scrive San Paolo ai Colossesi Cercate le cose di lassù Se veramente siete risorti con Cristo Cercate le cose di lassù Non quelle della terra Pensate alle cose del cielo Non a quelle della terra Perché voi In questo mondo Siete morti E la vostra vita È nascosta con Cristo in Dio Per questo Quando Cristo La vostra vita Si rivelerà Sarete rivelati anche voi Date morte Mortificate A quella parte di voi Che ancora appartiene Alla terra Fornicazioni Pensieri cattivi Mormorazioni Giudizi Eccetera eccetera E Dare morte Essere morti In questa terra E questa è la forma di vita Del cristiano Del figlio di Dio Di chi è Nel mondo Pur non essendo del mondo E tutto questo è possibile Perché Gesù Con la nostra carne È asceso al Padre Gesù Cristo È venuto dal Padre Nel seno della Vergine Maria Ha preso Una carne Identica Alla nostra Eccetto il peccato Per prendere su di sé Il nostro peccato Per Far arrivare Sulla sua carne Identica Alla nostra Gli stessi effetti Le stesse conseguenze Dei nostri peccati Pur non avendo peccato E i peccati I nostri I tuoi I miei Lo hanno Condotto al patibolo Lo hanno crocifisso Lo hanno Ucciso È stato Sepolto Nel sepolcro Ma la morte Non ha avuto potere Su di lui Non era possibile Che la morte Avesse ragione Del figlio di Dio È esplosa la vita Dentro la morte La carne Identica Alla tua E alla mia Affettata Ferita A morte Dal peccato Non ha subito La corruzione Per questo Cristo è risorto E Con la mia carne Con la tua carne Con la carne Di tuo figlio Con la carne Di tua figlia Con la carne Di ogni uomo È entrato nel cielo E ora Siede alla destra Del padre Dice San Paolo Che con lui Cristo ci ha risuscitati E ci ha seduti Alla destra Del padre Per cui la nostra vita Oggi È già in cielo Siamo tornati a casa Il figlio prodigo Ha fatto il percorso Ha camminato Ed è entrato Di nuovo A casa del padre Il padre Lo ha abbracciato La sua vita È riconciliata È pacificata La sua vita È stata rinnovata La sua vita Della carne Cioè con la carne nostra Identica alla nostra Ha trovato Il suo destino Non Affliggetevi Non angustiatevi Non appesantite Il vostro cuore Non siete turbati Perché io vado A prepararvi un posto E quando sarò andato A prepararvi un posto Il tuo posto Il posto dove tu sei Dove tu esisti Dove tu esisti veramente Dove tu sei quello che sei Dove tu sei quello Per cui sei stato creato Quando Vi ho Preparato quel posto Che tu Ed io Abbiamo perduto A causa del nostro orgoglio La nostra superbia Ebbene Gesù Cristo tornerà a noi E ci prenderà Perché noi siamo Dove è lui Cioè Perché noi siamo Nella sua stessa Vita Perché noi siamo Dove lui è Perché la nostra sostanza Sia nella sua sostanza E lui è Immagine E impronta Della sostanza divina Cioè Lui è il sigillo Che Dio esiste Perché? Perché questo imprinting Questa impronta Questa scultura Questa firma di Dio Del Padre Si vede in lui Che significa tutto questo? Significa che Gesù Cristo Il figlio Che si è fatto Figlio prodigo Per te e per me Ha sentito Nostalgia Di casa L'ha sentita per te e per me Dentro la tomba Laddove tu Laddove tuo figlio Laddove tua figlia Laddove tu oggi Che non comprendi Quello che sta succedendo Nella tua vita Laddove tu non comprendi Perché Sta accadendo Che tua figlia Debba Essere Perseguitata Perseguitata Da quel ragazzo Che l'ha messo in cinta E che non sopporta Il fatto di essere Stata lasciata Che di essere stato lasciato E che quindi Come uno stalking Quindi la affligge La tenta A tornare a vivere con lui E tua figlia È così debole Così fragile Che può cadere Da un momento all'altro E ritornare In quell'inferno Dal quale Piano piano sta uscendo Oppure È già nell'inferno Oppure La tua vita È ferita Mortalmente Da un peccato Da una schiavitù Da un'angustia Da una preoccupazione Che ti sta soffocando Preoccupazione per i soldi Preoccupazione per la salute Preoccupazione per il futuro Dei tuoi figli La solitudine Senti sola 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 perché Perché ti stanno abbandonando Perché Non è necessario Che tu sia vecchio O vecchia Per sentire questa solitudine Quella solitudine interna Profonda Di chi non riesce ad amare Di chi non riesce a passare All'altro Tutto questo Lo stiamo vivendo Sulla terra Perché apparteniamo Ancora alla terra Dice il signore Oggi Dice Finora voi non avete chiesto nulla Nel mio nome Chiedete e otterrete Perché la vostra gioia Sia piena Sia completa Abbia Perché la tua vita Abbia La gioia come destino Quella gioia di cui abbiamo parlato In questi giorni La gioia vera La gioia del perdono dei peccati Non la gioia per l'esito di un esame Perché ti si riesce a fidanzarti Con quella persona Perché Neanche la gioia perché tu abbia un figlio O perché E guarisci da una malattia O perché No la gioia per questo tipo di miracoli Che sono gioie stupendi Ma sono segni Sono gioie meravigliose Ma sono segni Sono frammenti Della gioia vera La gioia che nessuno può toglierti La gioia piena Del perdono dei peccati La gioia che Cristo è risorto La gioia dei discepoli Nel vedere Cristo E nel mangiare Toccare La sua carne risuscitata Mangiare con lui Mangiare il suo perdono Mangiare Nella sua intimità Essere Già nel cielo Oggi Cioè che tu hai un destino Che la tua vita non è che Scorre senza senso La vita di tua figlia Oggi In questa difficoltà Che ti sta distruggendo In questa precarietà totale Per cui È attaccata quasi a una macchina A un respiratore artificiale La vita fisica Come la vita di Maria Della piccola Maria O la vita spirituale Interiore Di tuo figlio O di tua figlia O di quella persona cara Che è sempre attaccata A un respiratore Che non sappiamo se A ogni A ogni respiro Non sappiamo se Ci sarà il successivo Perché può cadere Un'altra volta Perché può Entrare in depressione Perché è così fragile Così precaria Così precaria Il tuo lavoro Così precaria La tua salute Così precaria La tua vita spirituale La tua vita spirituale E che sei sull'orlo Della depressione O forse sei depresso Forse stai Che non riesci Ad alzarti dal letto Che non riesci A fare nulla Tutto questo Ha un senso Cioè ha una direzione Che è il cielo Pensate alle cose lassù Ma come posso pensare Alle cose lassù Se non so se c'è il cielo A che cosa penso Se non so A che cosa pensare A che cosa Mi dirigo Se non so Qual è il mio Obiettivo Qual è il mio destino Qual è il capolinea Della mia vita terrena Non lo so Non lo so che cosa Compie veramente La mia vita Il cielo Il cielo Compie la tua vita E come E come posso sapere Che esiste Parlavo con un mio carissimo Amico Un ragazzo Che ho sposato Tempo fa Che stavo Quando ero a Roma E che ha visto miracoli Ha visto segni E prodigini Nella sua vita A centinaia E negli ultimi tre mesi Miracoli impressionanti Eppure Eppure Questa domanda Sempre Sulla bocca Io non so Io non so Se esiste Dio Può essere Frutto del caso Può essere Una fatalità Può essere La mia Suggestione Sai la psicologia Freud eccetera Come può Questo ragazzo Come puoi tu Come posso io Vivere costantemente Guardando il cielo Un cielo azzurro Meraviglioso Che oggi è qui Su Tokyo Come è possibile Vedere questo cielo limpido E sapere Che è dove io Sto andando Come posso io Che sto camminando Con i piedi Ben piantati Sulla terra Dove c'è Difficoltà Sofferenze Malattie Precarietà Combattimenti Dove ci sono cadute Dove ci sono odi Rancori Vizi Dove sono schiavitù Dove sono malizie Malvagità Come posso io Sapere che Ogni passo Che sto mettendo Deponendo Su questa terra Su questa valla di lacrime È Un metro in più È venti centimetri in più Verso il cielo Verso il destino Che è quello Quella purezza Quella bellezza Quell'azzurro intenso Terzo Che oggi stanno Contemplando i miei occhi Com'è possibile Lo dice oggi il Signore Lo dice lui Prega Chiedi Tu hai chiesto da pagano Io ho chiesto sempre da pagano Che cosa abbiamo chiesto Cose della terra Miracoli terrestri Miracoli della terra Che guarisca quella persona Di ottenere quel lavoro Di fare questo Di essere quello Di essere più buono Guardate che è molto profondo Anche quando abbiamo chiesto cose Apparentemente O forse sante Non solo apparentemente Autenticamente sante Ma le abbiamo chieste Per saziarci Per sfuggire Alla precarietà Per sfuggire Al cammino Di ogni giorno Per sfuggire Al peso Della verità Che abbiamo visto Qualche giorno fa Per sfuggire Alla croce Che invece Siamo chiamati A portare ogni giorno Abbiamo chiesto Carnalmente Abbiamo chiesto Secondo una sapienza umana Spruzzata Verniciata Come lo zucchero a velo Sul pandoro Di spiritualità Di cristianesimo Ebbene Oggi Vi dico Chiedetene il mio nome Perché io sono andato al padre Io sono andato al padre E oggi vi parlo del padre Lì nella tua morte Lì nel tuo sepolcro Lì nella tua angustia Lì che vuoi quasi morire Che vuoi farla finita Lì io ti parlo del padre Non più in maniera velata No Come parlava Gesù ai discepoli Prima di morire Di risorgere E di ascendere al cielo E di effondere Lo spirito santo Prima Ti sto parlando Come una profezia Ti ho parlato fino ad oggi Forse nel tuo cammino di fede Fino ad oggi Gesù ti ha parlato In maniera velata Cioè Secondo Per mezzo di segni Anche per mezzo Di alcuni miracoli Che hanno cambiato Alcuni aspetti Della tua vita Perché tu potessi appoggiarti A quei miracoli Bene oggi io ti parlo Nella verità Apertamente del padre Cosa vuol dire Parlarti apertamente del padre? Mostrarti il suo volto Dove? Nella vittoria sulla morte Nella vittoria sul peccato Nel suo amore Perché a parlare Apertamente del padre Vuol dire Parlare apertamente Del suo amore Infinito per te Così Come sei Così come sei Paravo con un ragazzo Adottato Che ha un odio dentro Verso se stesso Perché ha un odio dentro Verso la sua storia Verso chi lo ha abbandonato Verso tutte le difficoltà Che ha sofferto Un odio Istilato dal demonio Un odio Istilato dal demonio Che lo porta a disprezzarsi A sentirsi diverso Da tutti gli altri E per questo Passa da un macello All'altro Quasi autopunendosi Volendo farsi del male E poi Passando dal disprezzo Al disprezzo Da un disprezzo A un disprezzo Ancora più profondo Di se stesso E quindi degli altri Cercando negli altri Ciò che non potrà mai ottenere E facendo cose Perché gli altri Si rendano conto Che lui esiste Perché ha fallito In questo Nel rapporto con la ragazza Ha fallito Nel rapporto con i genitori Ha fallito Nello studio Ora si aggrappa Allo studio Si aggrappa A quello A quell'altro Ma perché cerca Che cosa Che cosa cerchiamo Cerchiamo la vita La vita Cerchiamo il padre Cerchiamo la nostra origine Il cielo Perché noi In Cristo Come Cristo Veniamo dal padre E al padre Stiamo andando Siamo in esilio Su questa terra Perché Perché abbiamo perduto Il paradiso Nel peccato Mi ha concepito Mia madre Dio che ci ha voluto Per amore Per essere qui Per sperimentare Il suo amore Ma siamo stati Concepiti In una debolezza In un peccato Originale Ma prima del peccato Originale Ci sono i due capitoli Del Genesi Il primo e il secondo Che ci riguardano Cioè che Dio ci ha creato Per amore Che c'è una casa Paterna Nella quale Noi siamo stati pensati Amati Concepiti Ebbene Questa casa Paterna È il nostro È la nostra origine È il nostro Destino La parabola Del figlio prodigo Che Cristo Ha ripercorso Per noi Ha vissuto Per noi Oggi Ci parla Chiaramente Apertamente Del padre Dio Ti ama Ti ama Ti ama Ti ama Dio ti ama Non ti giudica Non ha mai pensato male di te Non ha mai pensato male di tuo figlio Per quante stupidaggini Per quante cose assurde abbia fatto Per quanti peccati Tu ed io abbiamo commesso Dio non ci ha mai giudicato Non ci ha condannato Ci ama Soffre Freme di compassione per noi Come una madre Come una madre Cristo Ha mostrato tutto questo Cristo Nella chiesa Che è il suo corpo Ci sta rivelando tutto questo Che noi Abbiamo un'origine Alla quale possiamo tornare E questa origine coincide Con il nostro destino Ma è ancora più bello Perché questa terra Che il demonio Ha voluto Ha voluto trasformare per noi In un inferno In un esilio Senza possibilità Di ritorno a casa Gesù Cristo L'ha trasformata Di nuovo In un cammino Verso il paradiso Cristo Le sue orme Qui sulla terra Sono il segno L'immagine Del padre Sì La possibilità Che tu oggi Possa vivere Con Cristo In Cristo Nella chiesa Nel suo corpo Dove tu puoi chiedere Nel suo nome E fino ad oggi Non hai chiesto Nel suo nome Non hai chiesto Nel nome di chi Con la tua carne È entrato nel cielo E vive già nel destino Che ti attende Tu non hai chiesto Veramente Nel corpo Che è la chiesa La cui testa Che è Cristo È già nel cielo Non hai chiesto Che cosa Amare Vivere le vite Vivere Soprannaturalmente Qui nel cielo Pensare alle cose di lassù Com'è possibile Che io sperimento questo Com'è possibile Che io possa vivere Pensando al cielo Vivere puntando la mia vita I miei pensieri I miei gesti Le mie opere Le mie parole I miei sguardi Sul cielo Com'è possibile Se ho la prova Che il cielo esiste Allora chiedi Nella chiesa Attraverso i sacramenti L'eucarestia Le liturgie L'ascolto della parola La vita comune Con i fratelli Tu puoi chiedere Immerso nel corpo Innestato in questo corpo C'è In Cristo Nel suo nome C'è nella sua persona Tu puoi chiedere Perché quel nome Ha un potere È il nome più grande E più alto Che esista Dice San Paolo Lui che è morto Da servo Crocifisso È stato risuscitato Ed esaltato Nella chiesa Tu puoi vivere Questa esperienza Quale? Farai opere più grandi Di quelle che ha fatto Cristo Sulla terra Perché Cristo La fate sulla terra Con la tua carne Tu oggi Le puoi fare In Cristo Risorto E acceso al cielo Cioè tu puoi fare Oggi Le opere Che fa un santo Dopo che è morto Perché uno sia santo Sia proclamato santo Sia canonizzato Deve dare prova Che sta in cielo Con che cosa? Con miracoli sopranaturali Bene tu Miracoli ancora più grandi Che guarire un cancro Che risuscitare un morto Quale? Per donare tua moglie Accettare tuo figlio Entrare in questa difficoltà In silenzio Entrare in questa difficoltà Con tua figlia In questa precarietà Entrare Non sapendo cosa fare Con questo ragazzo Che l'ha messa incinta Non sapendo cosa fare Entrare in questo terrore In questa precarietà Che è Secondo dopo secondo Stendendo le tue braccia E pregando per questo ragazzo Affidando tua figlia A chi ha vinto la morte Confidando profondamente Che Cristo Porterà avanti la sua vita Che questa vita Che sta Vivendo tua figlia È il passaggio Al cielo Che è Fondamentale Preciso Per lei Che non c'è altra vita per lei Che è questa Come per te Entrare in questa precarietà Amare Aprirti alla vita Perdonare Offrire del tuo corpo Offrire le tue ore Cioè uscire da te stesso Le opere soprannaturali Per questo Gesù Cristo Già non prega Il padre per te Ma è il padre stesso Che ti ama Perché voi avete amato me E avete creduto Che io sono uscito dal padre Ecco Credere che Gesù È uscito dal padre Cioè che è l'emanazione Che è il figlio Che è la parola Che è la vita stessa Del padre Che viene a te Il padre in te vive Il padre Il padre La tua casa Il tuo destino È già dentro di te E opera in te La caparra La primizia Le primizie Della vita celeste Di questo posto Che è stato preparato per te Lo puoi vivere già oggi Vivendo Parlando Pronunciando parole soprannaturali Sguardo soprannaturale Una vita soprannaturale Nella malattia Nella precarietà La pace La pace La pace La pace di cui parla Cristo Che ci annuncia Cristo risorto Il suo amore infinito Dentro di te Che ti fa Allargare le tue braccia Essere crocifisso con lui Per amore Anche di chi ti fa Libero dal male Libero dal denaro Libero dai beni di questo mondo Offrendo La tua vita Costantemente Lasciando che Ti tolgano l'onore Lasciando che Ti tolgano Che Che l'ingiustizia Arrivi verso di te Ti travolga Confidando che Cristo Farà giustizia per te Farà giustizia della tua vita Nell'amore Nel perdono Nella misericordia Offrendoti con Cristo Perché chi ti è accanto Possa salvarsi Possa vedere in te Quel cielo Al quale tu stai Verso il quale tu ti stai dirigendo Forse Quella persona Che è accanto a te Ha solo un'occasione Quella di incontrarti oggi Tuo figlio Ha una sola occasione Per vedere il cielo Per poter Incontrare di nuovo il padre Per contare la sua origine Per smettere di disprezzarsi Per smettere di odiarsi E di odiare Cosa? Conoscere l'amore infinito di Dio Conoscere l'amore infinito di Dio In te Che lo accogli così com'è Che ti carichi dei suoi peccati Il tuo sguardo Questo non si insegna Questo non te lo posso dire nemmeno io Non te lo può dire il Papa Non te lo può dire nessuno Questo te lo dice lo Spirito Santo Che ti sigilla Che Cristo è entrato con la tua carne nel cielo E ti fa fare oggi Verso il tuo figlio Verso i tuoi genitori Verso la persona che sta accanto La stessa opera Che può fare Cristo nel cielo Dove già non ci sono barriere di tempo e di spazio Cioè allarga Estende Dilata la tua vita Nell'eternità Per poter amare Di un amore eterno Dentro questo tempo Dentro i limiti Della carne e della terra Dando morte A ciò che ti attacca Ti appiccica Alla terra Entrando in questo combattimento Meraviglioso Per questo Vivere Attaccati a Cristo Per guardare il cielo Per camminare verso il cielo Questo è ciò che oggi il Signore ci annuncia Per introdurci nella festa della ascensione Buon sabato Nel quale sperimentare il perdono dei peccati L'incontro con Cristo risorto Che ti porta, ti trascina Nel compimento della volontà Al cielo Oggi Il cielo È per te Oggi La tua casa È aperta Oggi Oggi Attraverso i sacramenti Attraverso questa parola Puoi entrare con Cristo Nel tuo destino E la tua vita cambia completamente Perché perdonare E amare Chi ti ha fatto del male Con la tua carne Con quella carne Che fino ad oggi Ha peccato Fino ad oggi ha odiato Fino ad oggi ha avuto rancore Quello è il segno del cielo Quella è la cavarra del cielo Quello è il soprammobile Che sta nella stanza Che Cristo ha preparato per te E quella non è suggestione E quello nessuno te lo può togliere Perché è esattamente la prova E la certezza Certa Nella quale tu puoi credere Che Gesù Cristo è uscito dal Padre È venuto a te E torna al Padre con te E che vuol dire Che anche tu vieni dallo stesso Padre E vai verso lo stesso Padre Camminando nella stessa vita di Cristo Che è stata amare Sino alla fine Grazie a tutti